Ottimo tempo di grea, Boris, Boris, KitKat e la Lujek Negan 3.54 di 83 Salutiamo anche l'avvocato di Barletta, Amilcare dell'Aquila Il suo sponsor bagnificio GS con Sinisi Giuseppe Partito, riprendiamo, liberata la pista Abbiamo 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 è un disegno di centro della virgoletta è capitano Porsche 911 l'autriaco che ha fatto un grande tempo tra i 35 esi piccoli Nella prima mance sto parlando di Herbert Regarner, qua la sfida ovviamente per la classifica della E1 3000 più e fra Pulpio Giuliani la sua delta Evo Nella prima mance, e la triaccia che ha avuto la triaccia prima, a triaccia abbiamo Herbert Regarner, la 911 Turbo, pilota che vuole vedere cara la pelle in questa seconda mance Io sono Giuliani, mi metto davanti senza grossi problemi, vedremo Un certo Gianni di Barza che ieri ha dato spettacolo, eccolo qua la novità, 333,97, 333,97 per la pregata 333,97 per la pregata